Ciao ragazzi! Ciao! Se state guardando questo video è perché avete cliccato sul tasto abbonati e volete sapere di che cosa si tratta E allora ve lo spieghiamo subito Subito Abbiamo deciso di attivare questa funzione di YouTube Che permette a chi si abbona in cambio di una piccola cifra mensile Noi abbiamo scelto proprio un prezzo piccolino alla portata di tutti Meno di una bustina all'edicola E si può annullare in qualunque momento Perciò se voi lo provate un mese e poi non vi va di tenerlo lo potete annullare quando vi pare Si chiamerà il club degli anguriotti Quindi anguriotti ufficiali Ma che cosa avrete in cambio di questo abbonamento? Innanzitutto dei badge personalizzati, originali Originali fatti da noi tutti quanti E sarebbe una piccola icona accanto al vostro nome che quindi farà risaltare il vostro nome Noi lo noteremo e avrete la risposta prioritaria ai commenti Perciò tutti i vostri commenti riceveranno una risposta da parte nostra Sempre Assicurata Anche durante le live ovviamente noi vedremo prima i vostri nomi E quindi sarà più facile rispondervi e interagire insieme a voi In più avrete anche la possibilità di usare delle emoji personalizzate Ma non è finita qua Perché scusate ragazzi Noi non è che prendiamo qualcosa senza darvi qualcosa in cambio Perciò i vantaggi ovviamente non finiscono qui Deve essere equo Esatto Ma anche di più Nel senso noi vi vogliamo dare di più di quello che voi date a noi Avete dei privilegi Dei privilegi veramente importanti Perché innanzitutto potrete accedere a Foto e video segreti Segreti visibili soltanto a voi Quindi una sezione community con dei post Che potrete vedere soltanto voi Con dietro le quinte Curiosità Cose un po' più personali Magari vi racconteremo un po' di più della nostra vita privata Perché nei video ovviamente noi parliamo magari di argomenti di intrattenimento Però ogni tanto magari ci andrà di condividere qualcosa di un po' più personale E magari anche coinvolgervi con domande Sondaggi E rendervi proprio protagonisti Della scelta magari del prossimo argomento del video Sì E poi mamma potremmo anche fare qualche live solo tra di noi e gli angurotti È vero Angurotti È una bellissima idea Perché durante le live generiche Magari siete troppi e non riusciamo a rispondere a tutti Invece così potremmo rispondervi più facilmente Magari anche fare qualche saluto Bene Potrete anche vedere delle anticipazioni Insomma dei piccoli spoiler Sui prossimi video Alcuni contenuti in anteprima Quindi prima di tutti gli altri Però poi non dovete andarlo a dire a tutti Mi raccomando Vi metteremo anche a disposizione Dei file da scaricare Con giochi Attività Blimebag Toys Blimebag Insomma Tutte cose create da noi File digitali Che potrete scaricare gratuitamente E che magari normalmente invece sarebbero a pagamento nello shop E ogni tanto ci sarò anche io Perché mi stanno escludendo dal canale Quindi io E tu chi sei? Io sono tuo fratello Ah cos'è? Questo è già uno spoiler ragazzi Non diterlo a nessuno Ecco Ci saranno probabilmente anche molti video così Con queste scenette un po' sceme Che magari in un video ufficiale non vogliamo mettere Ma che potremmo mettere? Hai fatto vedere chi è Nei video per gli abbonati Ovviamente è del tutto facoltativo Chi non si abbona non perde nulla Il canale resterà quello di sempre Tutti i contenuti Ci saranno sempre video gratuiti Sì Come sempre Esatto Queste saranno soltanto delle cose in più degli extra Per il club degli anguriotti Ma tutti gli altri ovviamente Continueranno a poter guardare il nostro canale E avere tutti i contenuti che ci sono stati fino adesso Sì non cambierà niente Assolutamente Questa è soltanto una cosa in più Per chi vorrà Non obblighiamo nessuno Comunque ringraziamo già in anticipo Tutti gli anguriotti che vorranno sostenerci Ed entrare nel club E vi aspettiamo con i prossimi contenuti Segreti